Un miracolo, non hanno dubbi i genitori di Mattias, il bambino di due anni che ieri sera è precipitato dalla finestra della sua cameretta al secondo piano di una casa popolare a San Felice, rimanendo illeso. Escoriazioni e lieve compressione polmonare, la diagnosi che i medici del pronto soccorso hanno stilato quando hanno visitato il bambino, arrivato in ambulanza dopo essere stato raccolto dal cemento del cortile interno della palazzina, dove era finito dopo il volo. Tutto è accaduto in pochi minuti. Mattias, secondo il racconto fatto ai carabinieri da mamma e papà in casa al momento del dramma, ieri pomeriggio attorno alle 18 giocava da solo nella sua stanza mentre i genitori erano in cucina a badare ad una figlia più piccola. Non si sa come il bimbo è riuscito a salire in cima ad un mobiletto sistemato proprio sotto la finestra aperta per la calura. Da lì ha raggiunto il davanzale, forse si è sporto troppo, perdendo l'equilibrio e finendo di sotto dopo un volo di quasi 5 metri. Un volo nella maggior parte dei casi letale. Per Mattias invece no. La caduta tra erva e cemento non gli ha fatto nulla. Ad accorgersi di lui, rannicchiato e piagnucolante, è stato un passante, un ragazzo che si è messo subito a gridare chiedendo aiuto e attirando così l'attenzione dei genitori e dei vicini. La macchina dei soccorsi si è messa in moto anche se il piccolo, pur dolorante per le botte, è sembrato fin da subito in buone condizioni. Le visite mediche e gli esami clinici più approfonditi eseguiti al maggiore hanno confermato che Mattias non aveva nulla, era stato baciato dalla fortuna o per chi crede protetto da qualcuno.